ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mitra e misteri scp oggi nella parola scp chiamato scp 57 italiano chiamato anche in fondo al mar classe dell'oggetto euclid faccio due specie di contenimento data la sua natura scp 57 italiano è impossibile da contenere e pertanto deve essere monitorato dal sito nettuno nella sua localizzazione attuale ovvero a circa chilometri dalle coste della sardegna in caso di brecce di contenimento sia dovuta a variazioni del diametro della voragine al centro o alla fuoriuscita di istanze da essa la ssm seconda legge atlantidis deve essere inviata assieme all'unità sottomarina 1 nel contempo all'unità sottomarina 2 all'ordine di risalire in superficie il più rapidamente possibile per mantenere il contatto radio in ogni circostanza ogni incidente riguardante scp 57 italiano deve essere sognalato alla sovintendenza s5 specialmente in caso di tentativi di comunicazione da parte delle istanze di scp 57 italiano tattino a eo del loro capo per quanto concerne scp 57 italiano in sé la ssm seconda è autorizzata ad effettuare esplorazioni intorno ad essa e qualunque cambiamento nell'architettura o nell'impianto urbanistico deve essere segnalato al direttore della divisione di archeologia sottomarina da sito nettuno le istanze di scp 57 italiano tattino b sopravvissute sono contenute nella maa 23 nel sito nettuno dotato di una piscina d'acqua salata avente lo scopo di ricreare il loro abitato naturale tale istanze vanno inoltre nutrita almeno una volta al giorno con alghe costace molluschi e piccoli pesci di mare il personale desideroso di comunicare con istanze di scp 57 italiano tattino b deve essere a conoscenza del latino o del greco se necessario possibile richiedere l'utilizzo del traduttore neoreale anderson sumir mk secondo dato il basso rischio di brecce di contenimento dei semplici controlli regolari da parte dello staff sono dati interessi sufficienti la branca italiana della fondazione collabora attivamente con la branca francese del 2016 per intracciare altre città simile a scp 57 italiano o su istanze collegate al culto del grande occhio del mediterraneo che si supponesse il responsabile delle altre città commesse in scp 57 italiano descrizione scp 57 italiano è una città situata sul fondo del mar mediterraneo attorno ai 300 metri di profondità gli edifici che costituiscono scp 57 italiano sono realizzati principalmente con un composto di pietra ed alghe mentre il centro della città è costituito dalla casa del sindaco e da una voragine quest'ultima è circondata da statue di pietra alte all'incirca 5 metri e dalle quali fuoriesce una luce gialla brillante dalla forte intensità esse raffigurano degli esseri marini solo vagamente antropomorfi che a detta delle stanze di scp 57 italiano rappresenterebbero la divinità venerate a scp 57 italiano al momento della stessura del documento nonostante le esplorazioni effettuate il numero complessivo di abitanti in scp 57 italiano è sconosciuto tali abitanti sono degli esseri umanoidi alti circa 1,5 metri ed aventi mani e piedi palmati oltre che una pelle di un'indefinita sfumatura verdastra e branche sul collo vea di nota è anche l'assenza del naso infine la loro pelle è particolarmente resistente alle sono i quali tagli ed abrasioni grazie alla presenza di scaie sugli arti superiori ed inferiori le stanze finora individuate e o classificate come abitanti di scp 57 italiano sono da dividere in due gruppi il gruppo scp 57 italiano attino A è il gruppo più numeroso composto da almeno 60 stanze al momento della scrittura che si è dimostrato estremamente ostile oltre che dotato di scaie molto più sottili al contrario le stanze disegnate come scp 57 italiano attino B sono invece amichevoli e dotate di scaie molto più spesse quest'ultimo gruppo è attualmente composto da 12 individui poiché non sono dotate di polmoni le stanze scp 57 italiano attino A ed italiano attino B non possono rimanere molto tempo fuori dall'acqua quando è permesso loro di farlo le stanze IT-B paiono essere divertite dalla presenza degli agenti della SSM o dello staff di ricerca è importante sottolineare come al momento del loro contenimento alcune istanze presentavano ferite tracce di mutilazioni alle branchie alle mani e ai piedi tali ferite sono per la maggior parte guarite al momento della stesura di questo documento grazie soprattutto al supporto del reparto medico specializzato dal sito la nascita di scp 57 italiano attino B attino 12 il 27 12 2017 nel sito Nettuno ha dimostrato che le stanze scp 57 italiano attino B possiedono meccanismi di riproduzione simili ai mammiferi partoriscono sei mesi dopo l'accoppiamento ma è da notare come scp 57 italiano attino B attino 12 abbia delle scaglie simili a quelle delle istanze scp 57 italiano attino A al contrario della madre scp 57 italiano attino B attino 5 ciò sta ad indicare come le scaglie che spesso non siano un patrimonio genetico comune o caratterizzante del comportamento mite delle istanze scp 57 italiano attino B anche scp 57 italiano attino B attino 8 e suo fratello scp 57 italiana attino B attino 11 presentano scaglie sottili rispetto ai loro genitori scp 57 italiano attino 1 attino B attino 1 e 3 scp 57 italiano attino B attino 1 ha rilevato che è dovuto a una tecnologia di cui le apriole non è dotata le stanze scp 57 italiano attino B hanno un'evoluzione sociale e culturale differente dalle stanze di scp 57 italiano attino A sono molto curiosi si adattano facilmente ai cambiamenti e sono in grado di comunicare in latino la più vecchia delle stanze conosce anche il greco nel 2017 è stato notato che scp 57 italiano attino B attino 8 e 11 di 10 e 8 anni iniziavano ad esprimersi in italiano e che scp 57 italiano attino B attino 12 può capire l'italiano in latino e greco stato che rappresenta una delle stanze di scp 57 italiano foto scattata dalla squadra quadra B della SSM seconda le stanze di scp 57 italiano attino A e B tendono ad esplorare vaste aree marine la più vecchia delle stanze italiana attino B ha dichiarato di aver visto piccole cose grigie che si diffondevano nel mare al sud e che si hanno provato ad attaccarli si suppone che le stanze di scp 57 italiano attino A e B si siano spostate in diverse parti del mar Mediterraneo prima di installarsi vicino alla Sardegna e che abbiamo incontrato scp 44 italiano attino E il capitano Lorenzini capo dell'unità navale 1 incaricato del contenimento di scp 44 italiano attino E ha dichiarato di non aver mai notato nessuna istanza di scp 57 italiano si suppone inoltre che le stanze di scp 57 italiano attino A e B siano i discendenti di popoli che avrebbero vissuto fino al XIV secolo non so come si pronuncia se P e V non so sull'issa di Sartorini Sartorini è prima che fosse devastata da un'eruzione vulcanica alcuni abitanti avrebbero rivelato delle capacità di sopravvivenza da sott'acqua e dopo diverse remutazioni genetiche sarebbero diventati i primi esemplari delle istanze di scp 57 italiano diventata nomade per ragioni sconosciute questa società avrebbe allora vagato per tutto il Mediterraneo e costruito città effimere di cui scp 57 italiano sarebbe la più recente e forse l'unica abitata attualmente scoperta scp 57 italiano è stata scoperta nel 2015 da alcuni sommozzatori del club di immersione di dati cancellati in seguito ad un'aggressione subita da diverse istanze il racconto di questa aggressione è stato sostato sui social del club arrivando così alla tensione della SER prima le immagini sono state dimoste e i sommozzatori hanno ricevuto amnestetici diverse spedizioni della SSM seconda hanno permesso di confermare il racconto le istanze SCPG 57 italiana TNOB sono state recuperate dalla squadra Y la SSM seconda e portate dal sito Nettuno per il cubo vedessi sotto ma non lo apre guardate un attimo allora scoperta mi sa che non lo apre no non c'è nulla c'è scritto recupero però non lo apre vabbè ok se il video vi è piaciuto mi lascia un mi piace ed iscrivetevi al canale per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.